Un hotel prestigioso ed elegante che offre spazi incantevoli, di grande impatto visivo, ed una cucina prelibata, studiata appositamente per rendere unico ed esclusivo il vostro ricevimento noziale. Internamente gli spazi dell'hotel offrono molteplici possibilità, che si adatteranno alle vostre esigenze. Tutte le sale sono estremamente luminose e dispongono di luce naturale. Alcune delle sale si affacciano sul giardino tropicale e la piscina. La sala ristorante è concessa in esclusiva oltre a poter scegliere tra le varie soluzioni offerte dall'hotel. Dalla sala piramide, da 150 posti, con suggestiva piscina interna e sormontata da una struttura piramidale in vetro, passando per la sala tevere, per 300 invitati. La sala Granduca, invece, sarà più intima per accogliere 90 persone e la sala Niene con una capacità di 200 invitati. Un'ulteriore soluzione sarà la congiunzione delle sale a Niene e Tevere, per potervi garantire fino a 500 posti. Esternamente, lo splendido giardino ospita una tensostruttura di grande bellezza e funzionalità, che può ospitare fino a 300 invitati, ideale per i vostri aperitivi di benvenuto o per il vostro ricevimento. Ad accogliervi e servirvi nel vostro banchetto nuziale sarà uno staff composto da personale altamente qualificato, che avrà cura di ogni dettaglio per garantire una splendida riuscita del vostro grande evento con l'aggiunta di innumerevoli servizi e accessori. Lo chef capo del Grand Hotel Duca d'Este vanta una lunga e prestigiosa esperienza nell'alta ristorazione nazionale. Le prelibatezze che usciranno dalle cucine stupiranno i vostri invitati, contribuendo a donare un'atmosfera di esclusività alle vostre nozze.